Generale, 5 anni di attività qui a Pistoia e provincia, come ha trovato il territorio? Intanto in generale, poi parleremo della sua attività specifica. Il territorio in generale è sicuramente un territorio affascinante, totalmente diverso dalla mia vecchia e precedente esperienza, perché prima di venire qui a Pistoia a comandare il provinciale di Pistoia, comandavo il provinciale di Sassari, quindi come lei sa, come può immaginare, la Sardegna si può considerare una terra a parte, una terra a parte, con una mentalità a parte, con un popolo a parte, perché intendo sempre dire che il Sardi è un popolo, invece l'esperienza poi in Toscana è stato un po' un ritorno alle origini, perché io sono di origini toscane e quindi essere tornato in Toscana è stata sicuramente una grossa soddisfazione e poi venire a lavorare per il territorio della provincia di Pistoia è stato sicuramente gratificante. Come ha trovato dal punto di vista del suo lavoro questo territorio? Ma è un territorio, devo dire, estremamente tranquillo, non ci sono grandi problematiche, ci sono sì forse dei tentativi di infiltrazione della criminalità economico-finanziaria proveniente dal sud Italia, ma in special modo nella zona Val di Nieve, come ha avuto modo di rimarcare anche la DDA di Firenze, ci sono degli aspetti che noi opportunamente monitoriamo e anzi opportunamente anche reprimiamo. Ecco, com'è il vostro lavoro sul territorio, come agite? A parte gli ultimi due anni che sono stati segnati da un'attività quasi ferma dal punto di vista di polizia economico-finanziaria, perché ci sono state una serie di situazioni, a tutti ben note, la pandemia che sicuramente ha limitato le attività di polizia economico-finanziaria, quindi ci siamo orientati più a supporto e a sostegno della popolazione in coordinamento anche con le altre forze di polizia, se no normalmente la nostra è un'attività di indagine, di indagine sul territorio, di indagini con incroci con le banche dati, per cercare di durare un po' quelle sacche di evasione o di illusione da un punto di vista fiscale. A parte il discorso di possibili infiltrazioni, diceva lei, o del consueto lavoro, quali sono i pericoli principali che ci potrebbero essere o che potrebbero capitare? Ma i pericoli principali noi possiamo pensare che siano società che magari possono essere in difficoltà da un punto di vista di crisi economico-finanziaria, di crisi di liquidità e quindi un approccio da parte di organizzazioni criminali che con l'intento comunque di avvicinare queste società possono proporre acquisizioni delle società stesse, acquisizioni anche con denaro proveniente da attività illecite e classico riciclaggio. Tanti problemi che sono aumentati ovviamente con il periodo della pandemia, siete più bravi in questo periodo? Siamo più bravi in che senso? Siamo più bravi perché non facciamo controlli o siamo più bravi perché... No, no, no. Tanti problemi ovviamente per le aziende. Ci sono sicuramente tanti problemi, quindi ci sarà sicuramente un'attività un pochino più ferma e decisa per quanto riguarda l'evasione da un punto di vista di ricerca ancora dell'evasione. Certo un'attenumazione di quelli che sono stati gli obiettivi che avevamo negli anni precedenti perché noi abbiamo una serie di obiettivi che vengono prefissati a livello centrale, il Ministro dell'Economia normalmente fissa degli obiettivi che poi vengono demandati ai reparti provinciali che poi attraverso le parti territoriali vengono attuati questi obiettivi. Naturalmente questi obiettivi sicuramente atteso un momento particolare sono un pochino diminuiti, però l'attenzione dal punto di vista dell'evasione è sempre alta. E a proposito di obiettivi, chiudiamo qui, parlando anche da un punto di vista sportivo, un generale per noi è un onore, un generale a Pistoia, ma i suoi obiettivi personali? Ma io potrei rispondere con una battuta, è un onore per il generale a Pistoia, però questo è anche un signo dei tempi, vuol dire che avendo raggiunto il grado generale vuol dire che ho avuto anche un avanzamento di età anagrafica.